Ciao a tutti, benvenuti su Hermes Channel Web TV, in un'altra puntata di Sai che? Oggi parleremo di danza sportiva e i suoi benefici. Con l'associazione Passito e Balante di Castellana Grotte e le sue maestre Leana Sonnante e Rosalma Ventrella. Ma prima di vederci il video, se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi adesso e mettete mi piace su tutti i video che vi piacciono. E non dimenticate il campanellino per essere aggiornato ogni volta per i nuovi video che verranno messi. Ed un'ultima cosa importante per sponsorizzare questo programma, contattateci. E ora vediamoci il video. Ciao a tutti, siamo nell'associazione Passito e Balante di Castellana Grotte e siamo in compagnia delle maestre, Liana Sonnante e Rosalma Ventrella. Oggi a Sai che? Parliamo della danza sportiva e dei suoi benefici. Liana, cosa intendi per danza sportiva? Ciao a tutti, la danza sportiva alla fine è quella praticata a livello agonistico, questa è la differenza e non a livello sociale. Ci sono varie specialità che spaziano dal ballo di coppia, quindi dal discionificato e balo da sala, danze standard, danze latinoamericane, caraibiche, tango argentino. Poi ci sono tante molteplici attività che si sono aggiunte nel corso degli anni, fra i quali la Federazione Italiana Danza Sportiva ha in un certo senso accorpato a tutte le discipline già precedentemente dette anche la danza classica, la danza moderna e tante altre ancora. La danza è per tutti? La danza è assolutamente aperta a tutti quanti, dai più piccoli fino agli adulti. Rosalma, che beneficio traggono i bambini? Ciao a tutti, la danza educa il bimbo al rispetto delle regole, alla condivisione, al rispetto dell'altro, alla conoscenza del proprio corpo, alla creatività, allo sviluppo della fantasia, al senso del ritmo, alla capacità di ascoltare sia la musica ma anche i compagni e sicuramente anche al saper esternare maggiormente le proprie emozioni. Sicuramente per un bambino che si affaccia per la prima volta in una scuola di danza, io consiglierei la danza classica, perché la danza classica educa il bambino alla corretta postura del piede, al corretto appoggio del piede, che di conseguenza aiuta anche la corretta postura della schiena, delle braccia e del collo. Crescendo il bambino può aggiungere alla danza classica sicuramente la danza moderna, che è uno stile un po' più libero e che aiuta il bambino, a maggior ragione, al senso del ritmo e anche alla libertà dei movimenti. Liana, quali sono i benefici che si ottengono con la danza? La danza ha veramente molteplici benefici, basta pensare che fa benissimo il cuore perché attiva la circolazione sanguigna, fa benissimo la nostra muscolatura perché alla fine la danza è anche un'attività aerobica, in quanto tale sicuramente aiuta a tonificare e a rilassare la muscolatura in certi casi. È un alleato contro lo stress perché alla fine chi balla riesce a ritrovare la propria felicità, basta pensare che molto spesso capita che molte persone che vengono da noi a ballare mi dicono riescono a lasciare fuori i propri problemi, quindi lasciarli veramente a casa e durante l'ora si sentono in compagnia, riescono a socializzare e a non pensare ai propri problemi. Una cosa importantissima, soprattutto per le persone un attimino in età un po' più grande, la danza riesce anche ad aiutare la memoria. Di fatti, il fatto che vengano in un certo senso costretti ad imparare determinate coreografie, vari precite segue, a montare i di giro e quant'altro, una persona riesce in questa maniera, divertendosi a memorizzare e quindi ad allenare la propria memoria. Diana, tu cosa suggerisci? Per tutti coloro che in realtà vogliono sperimentare invece il ballo di coppia, sicuramente suggerisco di partire dalla base, ovvero dall'isciunificato e dal ballo da sala. Poi ci sono tantissime altre discipline, quali le danze latinoamericane, le danze standard, il tango argentino, ce ne sono davvero tante. Per tutti invece coloro che amano semplicemente ballare e ritrovarsi in compagnia, suggerisco di praticare i balli di gruppo, perché è un modo come un altro per socializzare, stare appunto in compagnia, alleviare lo stress, sorridere e fare davvero del bene a se stessi. Speriamo che i suggerimenti di Rosalma e Liana siano stati utili e che vi siano piaciuti. Sai che può interessare o coinvolgere anche te! Ciao!